Foggia come Milano, Roma, Parigi e le città dell'alta moda. Per tre giorni, anzi tre notti, i portici di Via Dante hanno ospitato l'evento Assaggi di Moda e Pittura, l'originale iniziativa ideata e realizzata dai commercianti di Via Dante e Corso Cairoli per animare la via dello shopping in questi primi giorni di festività natalizie che si preannunciano frizzanti e soprattutto più affollati. DJ set, musica e sfilate all'ora dell'aperitivo, un'esposizione di quadri permanente e modelle in vetrina al posto dei manichini che hanno sfoggiato i capi più modaioli delle collezioni. Effetto sorpresa garantito per i passanti divertiti e incuriositi dalla novità, a dimostrazione del fatto che al bando i pianistei basta davvero poco per rendere la città attrattiva e vivace al passo con le altre. Una bella idea che si spera possa essere da input anche per tutti gli altri operatori per affrontare con spirito di iniziativa e voglia di essere positivi un momento seppure non troppo favorevole per il commercio e che non può che far bene allo spirito della città.